Senti, tutti si chiedono perché il ministro non sblocca la situazione col CSM. Ma siamo sicuri che il ministro ti vuole a capo della superposta? Prova a chiederlo a loro. Ma che cos'è, un'intervista o un interrogatorio? Tu che ne dici? Io fiducia in te e tu hai fiducia in me. Un'altra cosa. Si dice che ti incontri di nascosto con leader politici lontani dai socialisti. Non ti fidi più di loro. Aspetta. Giovanni, un'ultima cosa. Hai dei rimpianti? Sì. Di essere stato è un passo da una svolta, epocale. Ma di non essere riusciti a farlo. Ma questo non lo scrivo. Stai tranquillo. Non scrivo niente. No, anzi, scrivi... che si muore quando si è lasciato i soli. Quando si entra in un gioco troppo grande. Questo lo puoi scrivere. Questo lo puoi scrivere.